Potete sedervi. Angelica, com'è passato il Natale? Non hai il microfono, per fortuna. No, ma ti... No, dà bene il microfono. In realtà te l'ho chiesto perché ti ho visto la vigilia o poco più fuori dalla casa a fare il tifo per Perla. Ma io dico, ma tu non hai una vita, non lo so. Ecco il suo compleanno, è un gesto d'amore, è un gesto d'amore. È un atto d'amore, vabbè. Vabbè, e tu non ridere Ciro perché ho saputo che per le vacanze la fidanzata ti ha lasciato a casa, mi siete lasciati.